Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 10.145 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 1.101 casi positivi, sono stati accertati 6 decessi. I casi attualmente positivi sono 27.384, 308 sono le persone ricoverate in area non critica e 11 quelle in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sono 8.491 le persone decedute in Puglia.